Firmato da CSA Cisal e Will FPL il nuovo contratto decentrato 2023-2025 per il comune di Palermo che stanzia 2,2 milioni di euro per circa 4.800 lavoratori. La scelta di firmare un contratto decentrato nasce dall'esigenza di dare risposte ai lavoratori e recepisce numerose proposte dell'organizzazione sindacale. Già dal prossimo febbraio i dipendenti troveranno in busta paga l'incremento della produttività e numerose categorie avranno indennità più elevate. Prevista anche una revisione delle indennità per gli ufficiali di anagrafe, stato civile, per le postazioni decentrate, per il servizio esterno della polizia municipale e per incrementare il fondo efficienza servizi. Il contratto prevede tra le altre cose un aumento di alcune indennità pari a 500 euro l'anno come nel caso dei responsabili di numerosi settori che vanno dal verde all'anagrafe, dalle attività sociali alla scuola, passando per i RUP, i direttori dei lavori e dei gruppi di progettazione. Inoltre aumenteranno le indennità degli ufficiali di stato civile, anagrafe ed elettorato da 350 a 700 euro, dei messi notificatori e protezione civile da 350 a 500 euro e degli agenti di polizia municipale da 2 a 5 euro al giorno. Secondo i sindacati la firma di questo contratto che prevede lo stanziamento di oltre 2 milioni è un segnale di grande senso di responsabilità nei confronti dei 5.262 dipendenti che nel corso dell'anno hanno lavorato nell'interesse della cittadinanza.